Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in tutta Italia per referendum regionali e comunali. È la prima tornata elettorale della storia con le mascherine anti-Covid. Il Ministero dell'Interno assicura nessun rischio. Osservando tutte le misure di sicurezza sanitarie che sono state prescritte e che sono state diramate a tutte le organizzazioni, quindi ai seggi e a quanti operano all'interno del seggio, ricordando che anche gli scrutatori e i componenti dei seggi sono tenuti a mantenere la mascherina, il distanziamento interpersonale, l'igienizzazione delle mani, la reazione dei locali del seggio. Direi che non ci sono particolari rischi. Gli elettori in quarantena in casa per il Covid potranno avvalersi se lo vorranno del voto domiciliare. Ma vediamo per cosa si va alle urne. Referendum, il quesito chiede di confermare o respingere la riforma costituzionale che riduce il numero dei deputati a 400 e quello dei senatori a 200. Chi barra il sì la conferma, chi barra il no la rigetta. Non c'è quorum, la votazione sarà valida a prescindere dal numero dei voti espressi. Si vota in sette regioni, Vale d'Aosta, Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia. E per sindaci e consiglieri in oltre mille comuni di cui 18, li vedete, sono capoluoghi. Ovunque per votare sono necessari documenti d'identità e tessere elettorale. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo spoglio comincerà con le schede del referendum.